conosco bene la realtà della Toscana, conosco bene la realtà di tutta Italia devo dire che è il momento delle scelte, anche rispetto alla crisi mi sembra che noi affrontiamo questa crisi con un'ottica un po' all'Edoardo De Filippo ha da passare la nottata, tutto tornerà come prima invece io penso che la crisi è il momento delle scelte faccio l'esempio della Liguria, l'assessore Briano è un ottimo assessore ma è più importante il terzo valico o mettere in sicurezza la Liguria? però questo bisogna dirglielo perché la gente se la domanda se la pone ma chi dovrebbe dare risposte non le dà perché lei sta lì Presidente della Commissione Ambiente ma vuol dire ai nuovi emergenti della politica, a quelli vecchi continuano a battere sempre i stessi tasti sì, bisogna scegliere, a volte anche i cittadini nel passato hanno pensato che fare grandi annunci di strade di grandi opere era preparare il futuro oggi si prepara il futuro se si scommette sulla qualità, sulla sicurezza, sulla bellezza anche dal punto di vista del lavoro e dell'occupazione vede, voglio fare perché poi noi adesso parliamo di distesso idrogeologico se c'è una scossa di terremoto e purtroppo abbiamo visto che in Emilia si sono state alluvioni in zone che erano state anche colpite dal terremoto si parla di prevenzione antisismica però in realtà c'è una enorme possibilità di ridare qualità e sicurezza alla vita dei cittadini e di creare occupazione grazie a tutti